giochiamo con la sabbia ciao hai visto che impronte ha lasciato il mio nuovo mezzo guarda eccole qua il mio camioncino è grandissimo ed è dotato di un braccio meccanico con l'aiuto di esso potrò scaricare tutte le formine bene scarichiamo l'ultima formina benissimo ce l'ho fatta bene comincio a fare le formine aspetta un attimo ho dimenticato la paletta e ora come faccio ehi aspetta qualcuno ha lasciato lì una paletta benissimo facciamo il retro front benissimo adesso ho una paletta ora posso fare le formine ma prima ci vuole un garage guarda posso smontare tutte le componenti del camion hai visto con le componenti del camion ho costruito un garage è arrivato il momento di parcheggiare il nostro camion bene facciamo le formine adesso ho un aereo blu una casa verde e un coccodrillo giallo incomincio con l'aereo plano dunque facciamo e ascoltare troppo E adesso la casa! E ora è il momento del cocodrillo! Molto bene! Abbiamo fatto le formine! È arrivato il momento di contarle! L'aereo, uno! La casa, due! Il cocodrillo, tre! Abbiamo fatto tre formine! Ho fatto tre formine! Adesso per me è arrivato il momento di tornare a casa! Ed ecco rimontato il camion! Adesso dobbiamo caricare tutte le formine! E la paletta? Non la porto con me! Verrà a riprenderla il proprietario! Riposizioniamo la paletta dove l'ha lasciata il suo proprietario! Tornerà sicuramente a riprenderla! E non dimenticare di lavare le mani! Quando finisci di giocare con la sabbia! Ciao ciao!